Approvata la proposta di legge sulla reingegnerizzazione della rete ospedaliare in giunta, ora il documento andrà in consiglio dopo il lavoro in commissione. Rispetto ai piani precedenti, in questo i posti letto aumentano, indicativamente 20 per ogni ASL e ogni localizzazione, ha detto Marsilio, avrà una vocazione specifica. Dove non ci sono grandi numeri, si lavorerà sulla specializzazione e sulla qualità. In totale i posti complessivi sono 4.014 per acuti, per riabilitazione 624, 273 di lungo degenza. Uno strumento pianificatorio che sarà importante anche come riferimento per le ASL, che avranno un quadro. Erano presenti alcuni manager delle ASL abruzzesi, di Giosia e Romano, Teramo e L'Aquila e il direttore dell'Agenzia Sanitaria, Pierluigi Cosenza. Aumenti di lungo degenza, di posti letto in lungo degenza, ma soprattutto una possibilità attraverso l'emergenza, urgenza, e quindi attraverso un sistema che unisce i quattro ospedali hub fondamentali con funzione di secondo livello per avere quell'assistenza adeguata nel momento in cui c'è un trauma o un infarto. Quattro ospedali avranno funzioni di secondo livello. Chieti e Teramo saranno finalizzati anche per emergenza, urgenza, per malattie cardiologiche, Pescara e L'Aquila per emergenza, urgenza per strocche e grandi traumi. Agli ospedali di base va aggiunto quello di Ortona, quelli di primo livello sul Mona. C'è un aumento di livelli di presidi ospedalieri, evitando i doppioni, aggiunge la Veri. A fianco degli ospedali di base ci sono quelli di Atese e Castelli Sangro come aree disagiate. L'aumento dei posti letto evita i doppioni per alcune discipline per l'assessore. Altra situazione importante, in base alle richieste, tenuto in atto il concetto del presidio che dipende da ospedale hub, è quella di Guardia Greli, che diventa succursale di Chieti. Su Tagliacozza e Pescina, il primo a vocazione in riabilitazione, il secondo a vocazione a lungo degenza. Non avevamo possibilità di avere un D.A. di secondo livello, ha ricordato Cosenza, ma non volevamo togliere la possibilità ai cittadini di curarsi sul territorio. Noi offriamo funzioni di idea di secondo livello, ha detto, per i quattro ospedali maggiori, spostando l'attenzione sulla messa in rete delle funzioni e sperando che il Governo accetti questo discorso. Non solo non abbiamo tagliato nulla, ma questa nuova rete aumenta i posti letto e le unità complessive, valorizza ogni singolo presidio, riapre pronto soccorso piuttosto che punti nascita, che erano invece stati chiusi o di cui si doveva prevedere per legge la chiusura. Quindi è un passo in avanti significativo e l'approvazione, quanto mai rapida, della legge in Consiglio regionale. Sarà il passo decisivo e necessario per poter poi accedere ai fondi dell'edilizia sanitaria, con la quale costruire nuovi ospedali e rimettere mano anche alle manutenzioni e alla ristrutturazione dell'edilizia sanitaria, che è purtroppo molto datata.